I militari della locale stazione dei carabinieri di Iesolo, supportati da quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Donato di Piave, dopo giorni di attività investigativa e di riscontro, finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà una donna 58enne del luogo, pregiudicata per reati in materia di disposizioni contro le immigrazioni clandestine. In particolare è stato accertato che la donna, al fine di tranne un ingiusto profitto, ha dato in locazione due appartamenti ricavati all'interno della propria abitazione a tre cittadini estracomunitari, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti irregolari nel territorio nazionale per i quali sono state avviate le procedure per l'espulsione. I due appartamenti sono stati posti sotto sequestro. Nel corso delle indagini è stato rinvenuto nel corridoio antistante alle unità abitative un grammo di cocaina posto sotto sequestro.